Qualche rinvio causa meteo in giro per la provincia, più di qualche difficoltà nei campionati giovanili causa covid e quarantene, ma anche questa domenica si gioca. Per le prime squadre l'orizzonte sembra meno problematico di quanto si possa pensare e allora scopriamo i match di cartello di questo turno di campionato. Noblesso Blegh iniziamo dal Cartigliano in serie D. I ragazzi di Ferronato affrontano al fair play il Delta Porto Tolle. I biancazzurri di Via Lungo Brenta sono quinti in classifica e reduci da tre vittorie nelle ultime quattro partite. In eccellenza c'è attesa e curiosità per il debutto al mercante del nuovo Bassano targato Pontarollo. La classifica dei giallorossi è pesantemente deficitaria, ma la squadra, con un filotto di vittorie, potrebbe rientrare in corsa per il podio. Bassano a San Giorgio in Bosco è il match della verità. In promozione fari puntati sulla sorprendente Marosticense prima in classifica, impegnata in trasferta contro il Monteviale. Rosa Favaro è il match clou del Girone D, grande attesa anche per la reazione dell'Eurocassola capolista, chiamato a fare bottino pieno in casa del Vedelago per riprendere la sua marcia trionfale.